Nonostante il maltempo abbia ridotto e non di poco il numero di attività da svolgere all'aperto, il bilancio per l'edizione 2018 del B-Motor Show, andato in scena all'Ario Fiera d'Erba, è stato positivo. L'organizzazione ha infatti segnalato 23.000 ingressi nei due giorni di apertura. Siamo soddisfatti del riscontro del pubblico, spiega Giuseppe Lorito, direttore della Kermess Motoristica. Gli espositori hanno apprezzato il nuovo format proposto e i visitatori hanno premiato la manifestazione nonostante il maltempo. A saltare causa la pioggia incessante gli intrattenimenti esterni, che sono stati però sostituiti con altri eventi, ad esempio gli spettacoli di quad e di moto. Apprezzate dal pubblico le iniziative legate alla sicurezza stradale, come la guida al buio e l'iniziativa dell'ACI che simulava lo stato di ebrezza al volante. Successo da parte dei più giovani per i provini per la nuova edizione del Grande Fratello. Un grazie a chi ci ha dato fiducia, conclude Lorito, in particolare espositori, spettatori e l'Ario Fiere. Arrivederci al 2019. A presto. Grazie a tutti. A presto. Grazie a tutti